Sono 7405 i piacentini donatori di midollo osse, un numero considerevole per la nostra realtà, ma che necessita di costante aumento. Chi dona salva una vita ed è proprio con questo messaggio che Admo Provinciale, in collaborazione con Ausle, sarà in Largo Battisti sabato 30 settembre dalle ore 9 alle 19. Per l'occasione i rappresentanti dell'associazione e i professionisti sanitari dell'azienda forniranno informazioni e raccoglieranno le iscrizioni al registro italiano donatore di midollo osseo e cellule staminali emopoietiche, un gesto che può aiutare chi ha patologie gravi come leucemia, linfomi e mielomi. Per iscriversi al registro occorre avere un'età compresa fra i 18 e i 35 anni, poi la donazione effettiva può essere effettuata fino a 55 anni. Occorre oltre a questa fascia d'età avere almeno 50 kg di peso, questo perché per poter donare la quantità minima anche solo per un bambino è necessario pesare almeno 50 kg e godere ovviamente di buona salute. Le donazioni a Piacenza sono ormai effettive, sono ormai 56, da quando siamo partiti negli anni 90 sembrano numeri piccoli ma non è facile donare per il discorso legato alla compatibilità. C'è molto bisogno perché per i trapianti di midollo osseo sempre più spesso le nostre ematologie e centri trapianti si rivolgono al registro nazionale ma anche internazionale. Ricordiamo che il registro nazionale nostro è in una rete web collegato a tutti i registri nazionali degli altri paesi del mondo, per cui ormai ci sono più di 40 milioni di donatori iscritti in tutto il mondo e è proprio a queste banche dati che i medici che effettuano gli ematologi che effettuano il trapianto sui pazienti si rivolgono.